Ciao cari tifosi, questa volta non vengo da avversario, vengo da un vostro proprio giocatore e spero di dare il massimo, di conoscervi, di dare tutto per questa maglia, anche per voi, anche per me stesso. Vengo qui ad Arezzo molto contento, molto felice di questa nuova scelta che abbiamo fatto tutti insieme. Arrivo in primis con la voglia di migliorare, di crescere, di continuare a crescere, di aiutare la società come hanno avuto questa fiducia in me, c'è un bel progetto e tutto qua, quindi spero di dare il mio massimo di cercare di pagare la fiducia che hanno avuto in me. Sono un ragazzo molto molto umile, in campo faccio il mio dovere, quindi a dire la mia propria qualità sarebbe un centrocampista che mi piace rompere il gioco dell'avversario e cercare di aiutare i compagni prima possibile, sia in fase difensiva sia in fase offensiva, quindi cercherò di dare tutto a me stesso e di continuare a migliorare le mie caratteristiche di proprio in mezzo campo. Questa stagione sarà molto molto impegnativo, sia da fase iniziativa anche per finire la stagione, perché da parte mia l'ho vissuto un anno molto molto difficile, essendo venendo dall'infortunio, giocando poco, cercherò di migliorare certe cose che l'anno scorso potevo migliorare dopo l'infortunio. E poi al di là dell'obiettivo personale, l'obiettivo di squadra, cercheremo di conoscere tutti insieme, di darci una mano a vicenda per portare Arezzo in avanti. A presto, ci vediamo allo stadio. Grazie mille. Grazie mille.